Che avete comprato zio? Tutto! Vedi quanto è bello mio zio. Ma a me cosa ho comprato zio? Niente. Le scarpe. Ah le scarpe? Sono le mie o sono le tue? No, dite. Ah, quindi della donna. Poi alla fine tutto va? Alla donna. E quindi l'uomo? Un gundanente. Le parole sante che dite mio zio sono queste. Ma che fa? Ah, me lo vuoi mettere. Hai capito? L'uomo è la donna. La donna è l'uomo. Comprare a basso costo rende rilassato. Rilassato. Come si dice felicità in inglese? Active. Active. Proviamo a fare questa frase in inglese. Una cosa semplice. Nella vita bisogna essere felice. In inglese. Ti aiuto io. Noi. 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 La felicità o la felicità? La felicità? La felicità... Eh? Mio nonno. Eccolo. Che bello. V Ctrl? una foto insieme, qui nonno. Hai una foto di 50 anni, perciò più vero. Poi stanno facendo sì. Comprare a basso costo rende rilassati. Rilassati. Grazie per la visione!